Bellissima, non è vero? Che cosa? L'aurora. Stupenda. La mia vita deve mirare in alto. Deve andare avanti. Entra nel videostore per acquistare per sempre o noleggiare per 48 ore i successi cinematografici che escono dalle sale ed entrano direttamente nel tuo salotto. Dacci un segno che vuoi comunicare con noi. Bonalla, bonalla! I grandi film di sempre, le serie TV e i cartoni animati che preferisci. Puoi scegliere tra oltre 2000 titoli. Sì, 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 ricevo, sono sganciata! Con il videostore di Pubovision hai un multisala a casa tua. E se hai più di 18 anni, entra in No Zone e scopri tutti i segreti del desiderio da noleggiare in totale riservatezza. Ora disponibile 24 ore su 24. È stato... mitico! Nel videostore sono ancora disponibili film che hanno appassionato milioni di spettatori nei mesi scorsi. Wolverine l'Immortale. Tutti qui, non mi. I Puffi 2. Col piano facciamo diventare buffette a una monella come noi. Monster University. Turbo. Che razza di benvenutore! Percy Jackson e il mare dei mostri. Sembra un taxi di New York City. E tanti altri. Explorer colpito! Explorer, mi sentite? Explorer! Explorer! Un astronauta è fuori! Il Dottor Stone è fuori dalla struttura! Dottor Stone, si sganci! Si riesco! Deve scanciarsi! Se non lo fai il braccio la porterà troppo lontano! Ascolti la mia voce! Deve concentrarsi! Si riesco! La sto perdendo di vista! La cosa si può più ritracciarla! Deve scanciarsi! Non la vedo più! Si scacci ora! Sto provando! 47? Sì, sì, sì! Ricevo, sono sganciata! Sì, è la sua posizione! Non lo so! Sto girando su me stessa! Non posso! Riferisca la sua posizione! Il GPS è fuori uso! È fuori uso! Non posso! Vedi un riferimento! L'attento, non vedo! Non vedo niente! Riesci a vedere l'Explorer? No! Riesci a vedere la ISS? No! Ti concentri, usi qualsiasi cosa! Usi il Sole e la Terra! Mi diamo le coordinate! Mi diamo le coordinate! Tutto il Sonno, mi senti là! Una meraviglia continua in assenza di gravità! Una sfida per tutti i sensi che vi lascerà senza fiato! Gravity! C'è qualcuno? Rispondete! Io te lo mi opposto, mi vado un po' a lavorare, perché magari sta facendo un'altra cosa. Io lo mi opposto solo. Il ritratto di un uomo buono, in un mondo sempre più grande, è un po' a lavorare, 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 è un po' a lavorare. Il padre è un po' a lavorare, è un po' a lavorare, è un po' a lavorare, è un po' a lavorare. Eh già, così giovane. Che lavoro facevi? La prostituta. Io non ce la faccio più. Al paese tutti quanti che mi perdono in giro sta storia delle copie. Fammi stare qua. Posso restare qui? Ho avuto clienti preti, anche più importanti di te. Se vuoi più tardi ti posso far l'amore per ricambiare l'ospitalità. Lui è Arturo, il marito di mia sorella. Ah, il colmuto! Mi perdo sempre, mosso sempre Da che parte il mare Interpretata, diretta e tratta dal libro del mattatore Rocco Papaleo. Cos'è di no? Da qua su è bellissimo, vieni! Una piccola impresa meridionale. Mia, ma... Ma non è che tutto sarà giusto? Ma va a fangolo. La sincera verità su di me. Gatsby, vorrei tanto sapere chi è. Questo mese festeggia con la persona che ami e lo speciale San Valentino. Per te una maratona cinematografica con il grande Gatsby. Quale Gatsby? Tre metri sopra il cielo. Entrate in macchina tutte e due. E tanti altri film all'insegna del sentimento. Tutti sanno Hollywood come funziona. Si sa che girerebbero a Stalingrado con polpotta la regia pur di incassare. E in attesa della notte degli Oscar, prevista per il prossimo 2 marzo, divertitevi con lo speciale Oscar con Argo. Io volo a Terran e ce ne torniamo come se fossimo una troppa. C'è qualcuno che guarda in su pensando a lei. È una ragazzina con i capelli castelli. Cubo Vision, più cinema e serie TV. E il tuo multisalo on demand.